ti dico solo che oggi è il giorno della verità ti sto mettendo la curiosità ci vediamo fra pochissimo beh sì secondo te com'è andata marianna è andata bene ah tu sei fiduciosa allora eh scusa marianna mi stanno chiamando mi stanno chiamando devo andare sì vicino arrivo vediamo se sono uscite pensa a quest'ora c'è saranno uscite no vediamo ancora niente oddio ragazzi buongiorno sto con l'ansia da questa mattina volete sapere perché perché oggi è giorno delle pagelle esce la pagella marianna e quindi scopriremo se è stata ammessa o non ammessa in prima media voi che dite allora diciamo che io sono abbastanza tranquilla perché so mia figlia è brava comunque ma mi ha sempre portato bei voti devo essere sincera eh però non si sa mai perché comunque devo andare in prima media che ne so le maestre che cos'era penseranno qualcosa avranno scritto io non lo so e neanche marianna sa che sono uscite le pagelle perché io non gli ho detto nulla perché gli voglio fare una bella sorpresa quando escono e quindi sto con l'ansia di solito escono subito non lo so oggi avranno ritardo non è che stanno scrivendo qualcosa di di importante oddio non ci voglio pensare intanto ti vi faccio vedere la signorina mentre io sto con l'ansia dove sta insieme all'altra sorella pazzerella venite con me venite guardate guardate un po dove stanno buongiorno ciao mamma vi state divertendo sì tantissimo perché finalmente è uscito il sole e finalmente siamo riusciti a metterci la piscina ragazzi ve la ricordate questa piscina questa famosa piscina che l'anno scorso abbiamo fatto un sacco di sfide qui dentro e le faremo ancora e le faremo attivate la panellina per non perdere nessun aggiornamento dell'estate di questa splendida estate che spero sarà iniziata speriamo perché fino ad ora stiamo quasi a metà giugno siamo lì e cioè fino a ieri pioveva si pioveva di rotta e faceva freddo quindi oggi di corsa abbiamo messo la piscina vero desi guardate desiree guardate subito attrezzata tutti con i suoi con le sue bamboline il cuscino e il pallone famosi cuscini e palloni di me contro te quindi voi state tranquille vi state divertendo e io sto dentro con l'ansia perché mamma c'è l'ansia aspetta perché c'è l'ansia poi poi te lo dico perché c'ho l'ansia io ti dico solo che c'ho l'ansia e che se succede qualcosa io non è che ti butto nell'acqua ti faccio dei mega gavettoni ma di quelli pesanti cosa è successo poi vedrai divertiti divertiti eh che dopo mi divertirò io fra un poco eh fra pochissimo ti dico solo che oggi è il giorno della verità ti sto mettendo la curiosità ci vediamo fra pochissimo ok divertitevi voi allora ragazzi è passata circa mezz'ora vediamo se sono uscite cioè speriamo perché di solito ci mettono poco allora vedo insieme a voi eh allora vediamo un attimo axios ok sì sì no non esco allora ecco qua mettiamo pagella e chiamo no questo no è il primo quadrimestre non ci interessa secondo quadrimestre ragazzi sono usciti e quindi ecco qua vediamo da una sbirciata prima allora italico unico unico che cos'è unico forse bisogna cliccarci sopra ah sì eccoli ragazzi eccoli vedo un attimo allora la situazione non è che sia ah interessante ok poi il resto voglio vederlo insieme a marianna intanto andiamo a riferire che sono arrivate le pagelle marianna si eccomi è arrivata la verità che fa perché che è successo al telefono eh che è successo noi non te l'abbiamo rotto eh stavamo qui non abbiamo fatto niente noi eh no 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 non è rotto fortunatamente è sano guardate guardate ragazzi il telefono è sano ah per fortuna che cosa è successo vuoi saperlo eh sì mi sta incuriosendo marianna è uscita la pagella eh co co la pagella ma quando perché è uscita la pagella qui c'è scritto se sei stata ammessa fammela vedere subito eh vado subito a vederla aspetta sei curiosa sì eh anche noi siamo curiosi io ho dato solamente una semplice occhiata e ti dico come si è andata che la situazione mmm insomma pensavo meglio andiamo andiamo vieni vieni ok mettiti seduta qua eh qua dove vuoi beh sì secondo te com'è andata marianna bene è andata bene ah tu sei fiduciosa allora eh sei pronta sì eh sì sicura sì questo è il telefono vabbè vabbè non ci vedo unico che sia ehi e vogliamo vedere pure noi vuole vedere solo lei perché se è brutta ma posso vederlo solo io prima io cioè poi lo vedi tu no vogliamo vederla insieme con te ok però andiamo dentro perché fa un pochino di freddo qua andiamo dentro allora vediamo 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 riepilogo esito ammessa ah ragazzi è stata ammessa meno male va va bene però dai si può dire che non avevamo dubbi Mari sì eh io sono troppo brava cioè eh non esageriamo non esageriamo che i voti ancora non li abbiamo visti eh allora qui abbiamo italiano italiano avanzato intermedio intermedio eh intermedio ragazzi sarebbe tipo ah dottorre racconti di scritti di esperienza personali eh perché tu sullo scritto eh eh intermedio ragazzi sarebbe tipo 7-8 ma no sì distinto è 7-8 intermedio 8-9 intermedio è 8-9 sì no 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 avanzato avanzato è 9-10 intermedio è 7-8 signorina hai preso 7 a italiano andiamo avanti ma andiamo però qua dice 8-9 ok gli altri sono tutti avanzati sì ma bene poi poi abbiamo inglese avanzato avanzato oh sei un genio inglese vai dimmi qualcosa in inglese ecco ma c'è tutti avanzati eh vabbè una parola eh hello 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 baby how are you a posto ragazzi storia 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 tutto avanzato ragazzi geografia non me l'aspettavo sinceramente avanzato tutti avanzati avanziamo avanziamo sempre di più oh c'è un intermedio ragazzi c'è un intermedio che materia matematica ah vabbè non ne avevamo dubbi ma proprio dubbi sinceramente avanzato intermedio intermedio avanzato va bene dai ma su matematica non avevo dubbi perché sapevo scienze tutto avanzato marianna quanto fa 10 per 10 100 ah sì ah lo sai dire quanto fa 7 per 7 vedete ragazzi l'avete visto scienze tutto avanzato comunque ok tecnologie avanzato musica avanzato arte immagine intermedio tutto avanzato tutto avanzato ma gli era partita la penna a questi insegnanti no eh dici di no no eh e senti un po' il comportamento com'è il comportamento è dove è all'ultimo vediamo un po' il comportamento che abbiamo distinto distinto sempre 7 e 8 distinto sempre 7 e 8 distinto scusa marianna scusa mi stanno chiamando eh mi stanno chiamando devo andare sì vicino arrivo vuol dire che che è una è una chiacchierona e fa casino entra dentro vieni vieni eh vieni vieni continuiamo te l'avevo te l'avevo detto che che vuoi continuare ancora che sono finiti no eh educazione motoria educazione motoria si sa che educazione motoria vai bene religione va bene ottimo comportamento distinto educazione civica avanzato tutti avanzati però sono curiosa di vedere intermedio che voto è chiediamo Alexa che voto è intermedio tradotto da testnik.com chiamo i gradi intermedi iniziano con il grado 6 che cosa 6 no mamma cioè comportamento hai 6 no mamma non è quello che credi no Alexa io io e te dopo facciamo i conti eh cioè io ti volevo fare una sorpresa che sorpresa che sorpresa eh beh ma comportamento ma il comportamento è importante sì però scusa e se io sto ragionando ora se avanzate 9 9 10 come può essere tre numeri dopo intermedio quindi io la sorpresa non te la do perché è solo questo intermedio ragazzi che dite gliela devo dare questa sorpresa a Marianna se la merita ma Marianna eh che c'è a Pore a Pangella è andata bene ho preso tutti i 10 10 e qualche 7 8 però lo sai Desi lo sai il comportamento ha preso 7 è poco si comporta male eh è chiacchierona oh è andata è sparita ma guarda proprio perché alla fine di tutto sei andata bene sei stata ammessa come immaginavo ragazzi che sarebbe stata ammessa brava perché dai alla fine è brava alla fine ha preso tutti quasi tutti avanzato sono quasi tutti i 10 3 intermedio dai 3 intermedio ci può stare poi 1 intermedio a matematica che lo immaginavo 3 intermedio a matematica mi fa faticare dalla mattina alla sera con matematica quindi possiamo dire che questa sorpresa gliela posso dare si eh però mi devi attendere 5 minuti ok 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 vatti a ributtare in piscina corri in piscina e fatti questo tuffo oddio io il tuffo non lo volevo farlo nell'acqua non per terra orio mi ha fatto male corri piano piano in piscina e tuffati perché sei stata ammessa in primo medio si schizziamo a marianna che è stata ammessa vai schizzi a mari brava marianna batti 5 dai che sono contenta bravissima ok ci vediamo fra 5 minuti con la sorpresa ciao ciao ragazzi ecco la sorpresa per marianna ok glielo andiamo a portare secondo voi come rimane secondo me è proprio contenta noi gli facciamo chiudere gli occhi mari arriva la sorpresa chiudi gli occhi ok è chiuso ok arriva la sorpresa arriva la sorpresa tanto la posso mettere nell'acqua questa sorpresa che non succede niente ok perfetto sei pronta ad aprire gli occhi vai apri sushi areggi tu sì il sushi contenta contentissima lo immaginavo che staresti rimasta contenta dovete sapere che io amo i sushi dai dammela a me che la mettiamo sul tavolino vieni così ti metti qua al fresco e ti gusti questo tuo buon sushi per la missione in prima media eh eh adesso io ragazzi mi godo questo sushi con la tranquillità che sono stata ammessa e come sempre noi vi diciamo sped con una cacciuta di desiree speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto mettete un pollicione iscrivetevi al canale sorelle mazzerelle e cadute e delle cadute e attivate la campanella e lasciate i musicamenti e al prossimo video ciao ciao iscriviti al canale grazie a tutti